buongiorno a tutti a voi amici miei come state state bene se io sto bene discretamente a parte che sono appena svegliato fatto un caffè qua caffè magic adesso tra un po arriva la curiera si va a lavorare domani gran giorno la festa della donna rispettiamo le onoriamole baciamole abbracciamole non solo il giorno di otto l'otto marzo ma sempre ogni giorno faccio questa patetica perché l'otto marzo tanti tanti anni fa purtroppo molto tanti operai io sono un'operaio di il mio lavoro spero che voi state bene vi auguro una buona giornata io la giornata benino sono contento che si inizia a lavorare magari si vedremo bene la giornata pesante sicuramente me la troverò e che dire ma il letto mi piacerebbe ma come fai ditemi voi come dal lunedì al venerdì fino alle 11 dormire sabato potrei dormire un'ora fino alle 10 non riesco a dormire questo è il quanto domenica anche stessa cosa e vabbè forza coraggio sotto santo antonello nardini saluto lucia dorsi anita venita e tutte le persone tiziana ivana vorrei la lista lunga finché fino a domani amici miei vi auguro una buona giornata mi voglio bene mi piacevo arrivare la torsima corriera si fa lavorare speriamo che c'era qui in regolare queste sono le corriere che portano gli operai in cantiere in cantiere qua adesso stanno portandoli sulla nave stanno facendo più ore dell'orologio perché dobbiamo consegnare le prove tecniche sarà bene tutto bene prima bene un bacio ciao a tutti saluto anche lorenzo da trieste che mi guarda spero che un giorno si ispira ciao a tutti e iscrivetevi iscrivetevi saluto campanaro 1989 saluto anche il maestro candoni tutte le persone che mi seguono mi guardano grazie 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 ciao a tutti a presto ciao